E anche per la seconda puntata speciale da Venezia, Stracult International non può mancare. Non può mancare, no, anche perché ti porto lontanissimo, ti porto in Taiwan. Il cinema di Taiwan è uno di quelli più pesanti. E andiamo a sparare un bel film di arti marziali. Vai. Bruce Lee contro i Superman. Ma com'è Bruce Lee? Sì, non è Bruce Lee, diciamo che è uno dei tante copie di Bruce Lee, insomma. Se chiamavo Bruce Lee Lee, L-E-I, però. Va avanti, va, 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 è genialo. Lo so, lo so. Inizia con una carlata sulla città, oi, di una carlata sulla città. C'è pure un poster de Zorro di Taiwan. Citazione. Citazione, vabbè. Entriamo dentro una palestra e c'è il cattivo do turno. Questo è cattivissimo. Guarda, guarda come è vestito, pare briella. È un crocio fra... Però è velocissimo. De qua, de là, che sta a fa, che sta a fa, non si capisce che sta a fa. Che sta a fa, sta chi in bietto. Ma come? Ma poi a chi, scusa? L Ó, a Bruce Lee, gli dice a Bruce Lee ti faccio una caposcia così. E infatti eccolo qui che lo sfida a duello, inizia il duello, ecco il nostro, ma c'è questo mio a Bruce Lee, c'è questo mio a Cornuciago, questo invece è Razzi, no l'onorevole si è uguale, e ora ecco Bruce Lee, ecco che comincia a fare Cornuciago, questo è cattivissimo, Brighel è cattivissimo e ora dopo 20 minuti di studio si incominceranno a cazzottare, guarda ma che velocità, ma stai scherzando, non si toccano, stanno mezz'ora a fare così, però non si toccano, non si danno un cazzotto, questo via e va lì, guarda, ma è un circense, si, tecniche da tigre, dell'amantica religiosa, questa è in unciacata in faccia, a un certo punto arrivano le pattuglie dalla polizia a Giulietta e del commissario Merli, ecchi qua che scendono tutti quanti e tu dirai, e che succede? Fermi tutti, dice ecco è il super boss, e dice grazie Bruce Lee, grazie, te sei uno dei tre superman, se scopre che Bruce Lee è uno dei tre superman, è incredibile dentro sto film, ma c'entra niente, ma poi scusa ma come fa a vedere? Infatti si leva subito a maschera, ci vede niente qua, a maschera c'hanno costume di Ralph super maxi eroe, tu ricordi, con una vespa tatuata sul petto che non si capisce che cos'è, e scopriamo che Bruce Lee, il nostro protagonista, è uno dei tre superman Ma ma il titolo, hai capito? Ma il titolo non c'entra niente, è Bruce Lee contro il superman e lui è uno dei tre superman, che gran firme da Taiwan che te faccio vedere, lui saluta, ciao fratello, ciao Guarda quindi, ma era tutta una propria, no mi ha scombussolato, questo film mi ha scombussolato Ma la scenografia proprio pregna questa, no vabbè, eh no? No vabbè, mo ci andiamo a vedere il tv cult perché io adesso ci devo pensare, voglio che mi spieghi bene i dettagli No, manda al servizio per poi Tv cult